Le condizioni del campo di gioco sono buone, un saluto a tutti gli amici sportivi dal vostro Gianni Pinoli e anche oggi per il commento tecnico l'impareggiabile Sandro Manini, a te la linea Sandro. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Stiamo per assistere ad una partita di esibizione. L'Austria contro l'Arabia Saudita, oggi affronta... Ancora la squadra austriana. Ed è il calcio d'inizio, l'arbitro fischia il pallo. E subisce qua. Fuori di monte. Rupa la parola Mi sembra sia fuori gioco Sono trascorsi 15 minuti del primo tempo Coltisce la palla da Gancho Entra in scivolata Tiro L'ha colpita proprio Chiude il bar L'azione si sposta sulla sinistra L'azione si sposta su L'azione si sposta sulla sinistra L'azione si sposta su L'azione si sposta su L'azione si sposta su L'azione si sposta su L'inizio del secondo tempo Un vero fuoriclasse Ecco la rimessa laterale L'azione si sposta su L'azione si sposta su L'azione si sposta su Siamo al ventesimo del secondo tempo. Siamo al ventesimo del secondo tempo. Rimesso dal fondo. C'è stata una sostituzione. Non riescono a chiudere l'azione. Non riescono a chiudere l'azione. Non riescono a chiudere l'azione. L'Austria ha condotto la partita sul filo del rasone con quell'unico gol di vantaggio e alla fine la vittoria è sua. Allora Sandro, come ti è sembrata la partita? Mi è sembrato un incontro avvincente, davvero molto spettacolare. Ok Sandro, grazie per il tuo commento tecnico. È arrivato il momento di chiudere il collegamento. Un saluto a tutti dal vostro Gianni Pinoli. Come sempre il commento era affidato al nostro Sandro Manini. Grazie Sandro. Grazie Gianni e arrivederci a tutti. Allora un arrivederci a tutti.